La gara ponte per la gestione dei parcheggi a pagamento in centro storico a Teramo è stata pubblicata ma l'obiettivo dell'amministrazione resta il project. Abbiamo impiegato questo tempo per risolvere la situazione di disordine amministrativo che abbiamo ereditato in merito alla gestione dei parcheggi a pagamento del nostro territorio. Ovviamente abbiamo dovuto incardinare un procedimento con una gara ponte modificando sensibilmente quella che aveva fatto il commissario dando prevalenza alla tutela sociale rispetto ai parcometri. È chiaro che al momento è stata pubblicata questa gara che dobbiamo assente ripristinare la situazione di regolarità però contestualmente abbiamo fatto partire anche l'altro percorso che è quello che noi vogliamo portare avanti con maggiore convinzione anche superando la gara ponte qualora tutto dovesse andare bene che è quello del partenariato pubblico privato. Quali sono le caratteristiche di questo percorso? Ma insomma è una durata ovviamente più lunga di almeno otto anni noi come amministrazione stiamo valutando una proposta di project ma vogliamo essere noi a dare le indicazioni, le direttive e così faremo per poter arrivare da qui alle prossime settimane in consiglio comunale e incardinare il percorso, il procedimento proprio sul project che rispetto alla gara ponte peraltro ha oltre che ovviamente una visione una prospettiva più lunga e tecnologicamente più avanzata ha anche la caratteristica appunto di tutelare un maggior numero di dipendenti attualmente in carico a Tercop che poi è il nostro obiettivo principale. Si sono espressi anche i sindacati? Sì, anche e soprattutto in questa direzione. Infatti devo dire che insomma il tavolo di confronto con i sindacati che è stato avviato già mesi fa ha portato importanti risultati ovviamente sindacati come noi d'altra parte quindi c'è una convergenza, si preoccupano e ci preoccupiamo della tutela dei lavoratori, quindi la massima tutela sociale l'inserimento della classe sociale che all'interno della proposta di project è inserita ovviamente noi come amministrazione chiederemo maggiori tutele quindi c'è una comune visione. È chiaro che questo procedimento deve essere apposto dal punto di vista amministrativo quando verrà definito diventerà il procedimento prevalente quindi potremo superare anche la gara ponte e andare avanti con il project che darà una prospettiva nella gestione dei parcheggi diversa ma soprattutto darà una prospettiva di garanzia ai lavoratori attualmente in carico a Tercop. Questo è l'obiettivo principale, riuscire a coniugare appunto una gestione efficiente, ottimale a quello che è l'obiettivo prevalente ovvero la tutela sociale, la tutela dei lavoratori. Quindi con i sindacati ci vedremo già immagino la prossima settimana la richiesta che è stata fatta è legittima e comprensibile ovviamente deve essere inserito tutto e questa è la grande differenza rispetto al passato dentro un percorso di ordine amministrativa e di regolarità che noi finalmente vogliamo dare intanto per tutelare le persone che lavorano attualmente alla gestione dei parcheggi.